eccoci eccoci qua una nuova partita ritiriamo in grado la cinque getton istambo vediamo vediamo che cos'è che ci sta qua gioca che cos'è che cos'è ai a proposito nel troppo che io stiamo fortissimo non ho capito che scendezzato io non vedo nessuno che devo fare qua? eeeh te mi non prenderlo no ma io ti invito a venire eeeh te mi non prenderlo eeeh te eeeh te già sono caduto e sei ancora no chi sta? chi sta online? no e i giocatori sono a sé nessuno si collega nessuno si collega con i nostri amici perchè i nostri amici non si collegano con noi eeeh mettete like mi piace da eeeh altri video eeeh chi lo so eeeh 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 non trovare eeeh non trovare eeeh 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 subito sono caduto subito voglio arrivare prima io voglio arrivare prima io voglio arrivare prima io voglio venire il bar voglio venire il bar ti ha arrivato prima oh è recaduto ciao ciao round terminato salta non cadere pure qua non cadere ma tutti non cadere mi senti da prima di marco ma sei perso già mamma mia sto per cadere mi stanno facendo cadere questi qualificato round terminato qualificato ha perso il super pro 1 come mi dispiace ha perso per il bene della scienza per il bene della scienza ecco quella è la forza tu eri forza qua come ti fai? 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 ah c'è uscita la pubblicità perché c'è uscita la pubblicità? come ti fai? come ti fai? un passo c'è un passo le scuole mamma mia quanta sette puoi fare? oh puoi fare il cielo epico? ma che fai? ecco quello vi ho vediamo che mi esce rara rarissima leggendaria speciale speciale dai 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 chi è questo? il first equipaggio yes il first Yeti ruota totalmente al naturale non ci interessa oh no nulla non mi scena brutto no sei giocato di vergogna no aspetta che devi aspettare? ora faccio io ora faccio io l'evento quindi ecco vediamo se no no è uguale anche per me dai unisciti unisciti ok unisciti anche l'hondisi unito la gente sta aspettando non vedo nessuno qua ah boh si gli altri non si uniscono non si uniscono come si legge? i nostri amici non si uniscono i nostri amici non si uniscono giro 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 tondo casca il mondo casca la terra tutto giro per terra dai vettore verso l'arrivo dai quanto sei forte dai io qua sono un po' scasso ok ok ci stai a fare stai avanti a mettere nooo sono caduto nooo sono caduto ancora nooo ce l'ho fatta si oh si si ce l'ho fatta eeeh volo su da di te volo vediamo pensate che cosa fanno ooo tutti giù per terra non è bene ce l'hanno fatta saltare vediamo gli altri ooo un po' caso un po' olè vediamo chi si qualifica nessuno si qualifica olè eeeh e hanno perso su si hanno proprio perso su su siamo rimasti solo in seggi chi vincerà chi vincerà chi vincerà questa partita nooo nooo io mi disso allora non giocare neeeh ebbene lascia anche se può essere di più di Einstein basta volerlo crederci ah nooo Stando! Stando non è pedito! Noi abbandonati. Sì che abbandonati. Noi 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 abbandonati. abbandonati. Noi abbandonati. abbandonati. Noi abbandonati. Noi abbandonati. abbandonati. Noi abbandonati. Noi abbandonati. 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 qualificato hai perso? no? no hai capito qua sei bravissimo io sono scarsissimo qua perché mi hai invitato alla partita? mi sono salvato questa mappa me la so proprio fare sono proprio scherzi sta mappa sono proprio scherzi sta mappa guarda che bollo la streghetta guarda qua il mago che è forte this goddess guarda this goddess guarda c'è Cristiano Ronaldo ma non è Cristiano Ronaldo perché c'è il numero 10 dove vai? oh ma è forte this goddess siete rimasti con i due oh fai lo scherzi fai lo caldo papà no papà no papà no papà no papà ma sei caduto da solo ma sei caduto da solo ma come hai fatto come hai caduto da solo si è proprio caduto da solo ma come hai fatto da solo ma hai fatto da solo ma hai fatto da solo dai fermate l'ultima partita dopo c'è una propria proviamo l'evento proviamo l'evento vai vedi pubblicità ma io qua sono scarsa questo è l'evento si ma sono scarsa allora come è con il mio mi ha fatto da solo c'è un mio dopo oddio berazio vediamo non posso io papà mi sono pulificato 10 10 10 quasi di meno 10 no sono caduto sono proprio scassi beh dai quando ci metti dai basta e chi ce ne importa noi non lo vediamo questo è in finale si sono in finale e chi ce ne importa io qua sono scassisti 15 si eliminano 15 persone ma può essere che subito mi sono eliminato sono scassissimo ok maestro salutiamo ciao 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 ciao